Il nome Asiago identifica due formaggi DOP con caratteristiche differenti, ma originari della stessa zona, l'antopiano di Asiago. L'Asiago fresco o pressato è un formaggio da tavola prodotto con latte intero pastorizzato. La lavorazione avviene in polivalenti che scaricano la cagliata direttamente negli stampi. Dopo la salatura, il formaggio viene stagionato per minimo 20 giorni. Il sapore è dolce e delicato. L'Asiago stagionato o dallevo viene prodotto tradizionalmente in caldaie di rame con latte crudo parzialmente scremato. È un formaggio adatto ad una lunga stagionatura, da 4 a 6 mesi per il mezzano, oltre 10 mesi per il vecchio. Il sapore è deciso e sapido, lievemente piccante nel vecchio.